Cresce anche nel 2022 la raccolta differenziata in Toscana e si attesta al 65,68% dei rifiuti solidi urbani prodotti, dunque oltre il 65% che è il traguardo previsto dalla normativa vigente. La provincia di Arezzo però, seppur con sensibili miglioramenti, si piazza all'ultimo posto tra i territori toscani con il 55%. Nessun comune aretino poi si trova tra le eccellenze regionali, ovvero quei comuni che riescono a differenziare oltre l'80% dei rifiuti. A pubblicare i dati che certificano per ogni comune le percentuali di raccolta differenziata raggiunte è stata l'Agenzia regionale Recupero Risorse. Nel 2022 comunque un terzo dei municipi aretini ha superato il 60% di raccolta differenziata, con Capolona che risulta il comune più virtuoso con il 78,32%, seguito da Civitella in Valdichiana, Subiano e Monte San Savino. Confermano performance oltre la media regionale anche Castelfranco Pian di Scò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Fogliano della Chiana e Loro Ciuffenna, che fa un balzo di oltre 12 punti. Crescite significative anche a Cortona, Montevarchi e Monterchi, positivo poi il dato di Arezzo, con il capoluogo che segna più 2,62%, assestandosi al 54,30%. Complessivamente nel 2022 nella provincia di Arezzo sono state prodotte 190.850 tonnellate di rifiuti, con il 55% di differenziata, più 2,7 rispetto all'anno precedente. Siamo soddisfatti ma c'è ancora molto da fare, commenta il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini. I territori che registrano una maggior crescita sono i quei comuni dove le amministrazioni locali e sei toscana hanno dato vita negli ultimi tempi a una profonda riorganizzazione dei servizi.